Una probabile truffa viaggia via posta elettronica. In questi giorni numerose segnalazioni da parte di aziende sono pervenute sia alla CNA che agli uffici dell'Inps in merito alla ricezione di messaggi di posta elettronica certificata con contestazioni di addebiti relativi a mancati versamenti contributivi. A prima vista le richieste potrebbero sembrare riconducibili all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Evidentemente si tratta di una truffa con l'intento di rubare dati alle aziende o di introdurre virus nei sistemi informatici. CNA raccomanda quindi una particolare attenzione nell'aprire questo tipo di messaggi di posta elettronica. L'Inps inoltre ha diffuso un comunicato nel quale sottolinea che l'Istituto è del tutto estraneo a tali PEC e le segnalazioni pervenute sono state inviate alle autorità competenti. L'Inps ricorda poi a tutti i cittadini di non dare seguito a richieste ambigue che arrivino via mail e che l'unico link per accedere alle informazioni, ai servizi e alle prestazioni dell'Istituto è quello che leggete in sovraimpressione e che potrete trovare sul nostro sito occhioallanotizia.it